Siamo finiti su google Ragazzi perchè ultimamente sul mio discord Stanno mandando delle foto pazzesche Proprio su google Ma foto Non normali Queste foto Esatto Queste foto Aspetta Cerco di ingrandirvele Sempre che ci riesco Eccole qua Eccole Perchè adesso va di modo questa ship Di nome MTPG E pizza24 E non si sa perchè Ci hanno fatto pure Delle fanarte ma Non si può limitare A far solamente De fanarte Perchè non caricarle Pure su google Comunque sia A parte gli scherzi C'è Sì Però c'è una cosa positiva Del resto E che Mi si che sta diventando famoso Dai Mi si sta diventando famoso Oddio 110 cretti Non ce l'ho proprio il massimo Però è per sempre Una soddisfazione Che almeno Fanno delle fanarte E a me Comunque sia Queste fanarte Mi piacciono molto Sono davvero belle Qua vediamo MTPG Ovviamente In viola Pizza24 In rosso Lo In rosso E v In viola Bello MTPG Pizza24 Love Davvero bello Anche se sono scritte Non è proprio un segno Però Diciamo che Bello Bello Bravo il tizio che ci ha provato Allora ragazzi Andiamo anche a questa Che Sì Sono sempre delle scritte Sulla qua invece che è scritto Love C'è un cuore Aspettate ragazzi Ve la ingrandisco Ok Pizza MTPG Qua probabilmente Si è scordato 24 Però Qua niente Allora Anche questa è molto bella Devo dire Davvero molto bella Si limitano solo a delle scritte Però a me mi fa sempre piacere Anche a MTPG Anche a Pizza24 Dovete sapere Adesso Vi racconto una cosa Che Per Almeno due giorni È successo Il casino Su Discord Allora Noi cerchiamo Di nascondere A tutti i fottuti Costi A Pizza24 Di questa ship Per paura Che si incassate E indovinate la fine Come è finita Non gliene è fregato Niente Noi due giorni A fare tutto sto casino Poi su Discord È successo il peggio E poi alla fine Non gliene è fregato Niente Wow Nel mentre È appunto MTPG Che mi scrive Per appunto Il fatto che stiamo facendo E Wow Andiamo all'ultima Fanart Di questa ship Che poi Hanno messo online Solo sono tre Però sono bellissime Qua vediamo Finalmente Un disegno Sono degli stickman Davvero bella In viola Vediamo MTPG O Marrette Purple Guy Con un cuore in mezzo E sotto In rosso Vediamo Pizza24 Allora Mi piace anche una cosa Che magari Pizza24 Sia fatto in rosso Perché probabilmente Pensano Pizza24 Lo associano magari A una pizzera mozzarella Però Sono davvero fatti bene Magari poi ragazzi Faremo pure una skin A Pizza24 A Tomo26 Super paperino Per almeno magari Quando fate disegno E volete aggiungere loro Magari sapete come aggiungere Però Finora magari È bello il colore Che avete messo A Pizza24 Forse lo faremo rimanere Poi sentiremo pure Ovviamente A Pizza24 E sì Adesso andiamo A vedere il disegno Ah il disegno Fatto bene Finalmente abbiamo un disegno Il resto sono tutte scritte Magari Certo Potevano fare al meglio Però È lo stesso belli Magari che soprattutto Il bello che È bravo che ci ha provato Magari gli altri Non ci hanno provato Perché Faccono un po' gagare A disegnare Come a me Come a me Io forse Faccio peggio di questo Quindi Va bene Comunque sia Un disegno davvero bello Con il cuore in mezzo Realmente Sono tutti i disegni Finora che abbiamo visto A parte il primo Hanno un cuore Giusto per Mischiare la ship Davvero bello E comunque sia Sono anche divertente È anche divertente Questa ship Però la cosa brutta È che Poi toccherà A tutti noi Perché ovviamente Ogni youtuber Ha una ship Però dai Davvero bella Ragazzi Ovviamente Fatela anche voi È entrata Sul mio gruppo Discord Mi raccomando Favere un botto Perché Questi che hanno fatto Anufi Un'idea geniale Puoi metterle Online Perché così Ci fanno anche Pubblicità Ragazzi Grazie Non si trovano Molto facilmente Però ragazzi Magari Vi lascio il link Sotto in descrizione Di queste foto Così magari Potete venderle Anche voi Magari Dire la vostra Sotto i commenti Con questo Il video Posso finire Qua E con questo Posso dire Che Da Fata La Sita Tutto Ciao